Grazie, buongiorno a tutti. Iniziamo i lavori di questa Commissione, comunico che ai sensi dell'articolo 33,4 del regolamento è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web tv e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio senso. Parliamo oggi dell'affare assegnato numero 478, artigianato di alta gamma e iniziamo da oggi il nostro ciclo di audizioni con autorevoli interlocutori del settore in modo tale poi che riusciremo sicuramente ad avere un quadro compressivo per poter così portare avanti in tempo utile una definizione, una risoluzione su questo tema che potrebbe essere così importante anche per sostegno all'attività del governo e naturalmente quella del Parlamento. Le audizioni durano 10 minuti per interlocutore in totale perciò le lascerei uno spazio a lei. Abbiamo Artex, centro per l'artigianato artistico della Toscana, Elisa Guidi che è il coordinatore. Lascerei a lei la parola, grazie. Innanzitutto grazie, grazie per questa possibilità e grazie anche di poterci ritrovare a parlare di un possibile testo sull'artigianato artistico. Artex opera in questo settore ormai da tantissimi anni, all'incirca dal 1995, quindi diciamo che la società ha un'esperienza molto vasta sul tema dell'artigianato artistico e tradizionale. Noi lavoriamo, come dice il nome, molto sul livello regionale, siamo strumento della Regione Toscana e del Comune di Firenze attraverso un progetto a questo punto triennale, quindi fino a tutto il 2026, proprio di valorizzazione di questo settore, ma abbiamo sempre lavorato anche a livello nazionale e a livello internazionale, perché esistono vari network su questo tema a livelli territoriali più ampi. Abbiamo lavorato molto anche con l'Istituto per il Commercio con l'estero e quant'altro, quindi diciamo abbiamo un punto di vista abbastanza ampio sul settore. Come stavamo un po' chiacchierando prima, il primo tema probabilmente è una delle prime necessità che il settore dell'artigianato artistico ha in Italia e non soltanto in Italia, è quello di una definizione precisa, condivisa e finché è possibile riconducibile a dei codici che ne permettono un'analisi statistica. Questo perché è necessario capire la dimensione del settore, perché si ha spesso la percezione di un settore quasi marginale, cosa che non è assolutamente in primis perché comunque sia in nerva, diciamo così, tutto il tessuto produttivo della penisola e poi perché comunque si parla di produzioni ad alto valore aggiunto con quindi un forte impatto non soltanto culturale ma anche economico e tra le altre cose è uno dei settori fondanti del Made in Italy perché anche se spesso viene scisso la sartoria artigianale, la pelletteria, l'oreficeria e quant'altro sono tutti i settori dell'artigianato artistico e tradizionale. È importante notare come l'ultimo testo di legge sul Made in Italy ne parli sia in materia di industrie culturali e creative perché l'artigianato artistico è per definizione condivisa una delle industrie creative e ne parla anche in materia di protezione per ciò che concerne le indicazioni geografiche per riprodotti non agroalimentari. Quindi c'è stato, diciamo che c'è un'attenzione, una prima attenzione su questo settore. È però un settore importante su cui sarebbe interessante fare un ragionamento un po' a tutto tondo. In primis, come dicevo prima, è presente su tutto il territorio nazionale e sono tutte micro, piccole e medie imprese ma che hanno un valore raggiunto, come dicevo, molto importante. Molte di loro per esempio vivono essenzialmente di export, esportano in tutto il mondo. Ci sono piccoli laboratori che magari noi nemmeno conosciamo e che hanno clienti giapponesi o che li vengono a cercare appositamente. Quindi è un settore, torno a dire, economicamente importante in se stesso ma anche in rapporto con altri settori. Per esempio adesso ci sono moltissime richieste nell'ambito del turismo esperienziale e creativo di rapporto con il mondo dell'artigianato artistico perché viene visto giustamente come un fattore identitario dei territori, meno anche sotto certi aspetti, perdonatemi il termine massificato, di alcuni aspetti legati all'enogastronomia che adesso sono parecchio gettonati e quindi c'è una forte richiesta di queste esperienze che poi si collegano molto bene anche a tutto un tema di turismo più slow, più rispettoso dell'ambiente, più sostenibile e quant'altro. Quindi diciamo vederlo come un settore economico, culturale e anche sociale perché comunque fa parte del tessuto sociale dei territori. Io mi sono permessa di inviare e di distribuire questo documento che troverete, la Carta Internazionale dell'Artigianato Artistico, è un documento che al momento sarebbe forse interessante riprendere in mano e aggiornare. Però è stata la prima volta in cui si è cercato di dare anche una, diciamo così, una veste teorica e una discussione intorno a questo settore, stabilendo per la prima volta i tre principali valori di questo settore, appunto economico, sociale e culturale. Perché spesso lo si guarda parcellizzandolo, no? O solo sorgente economica, o solo sorgente culturale, o solo aspetto, diciamo così, di primo inserimento nel mondo del lavoro, di sviluppo di aree con difficoltà economiche e quant'altro. Invece sarebbe opportuno vederlo un po' nell'insieme come tutto tondo e averne quindi una percezione abbastanza completa. Quindi rispetto al tema dell'affare assegnato sicuramente, come dicevo inizialmente, è un tema molto molto importante. Il primo punto ne parlavamo sicuramente la definizione, una definizione condivisa di ciò di cui stiamo parlando. Finché è possibile analizzabile. Indubbiamente quello che è importante e che viene citato nel documento è intanto il valore identitario. Quindi l'artigianato artistico ha una forte componente identitaria e come dicevo è un'importante componente del Made in Italy. Perché ci sono settori in Italia che sono conosciuti in tutto il mondo, dal marmo di Carrara alla ceramica di Faenza, al vetro di Murano, al commesso fiorentino, il corallo napoletano e per non parlare appunto della sartoria. E quindi un forte valore identitario. Un forte valore identitario che però si esplicita non soltanto in una musealizzazione di alcune tecniche perché fanno parte della nostra cultura. Significa sostenerlo perché fa parte e ha un forte impatto economico e anche occupazionale. perché per esempio c'è una forte richiesta di ricambio generazionale. Non soltanto nel settore moda. Avrete visto tutti gli articoli per questa prospezione che c'è stata di una mancanza di manodopera nel settore moda e accessorio moda nei prossimi anni proprio di alta gamma. Mancherà tanta tanta manodopera. Ma questo è anche in altri settori. Per esempio non è spesso noto che a Colle Valdelsa in Toscana c'è uno dei principali poli di produzione del cristallo a livello europeo. Le cristallerie stanno disperatamente cercando personale perché dopo un momento di cristallo invece è ripartito il mercato internazionale, è ripartito molto bene, ma non c'è manodopera. Questo è un tema molto interessante perché da un lato è un settore che potrebbe assorbire manodopera, dall'altro ha bisogno forse anche di essere comunicato in un modo un pochino più accattivante per avvicinare i giovani a un mondo che viene spesso visto un po' vecchiotto, diciamo così. Quindi anche questo del tema dell'occupazione, del possibile inserimento di giovani generazioni è un tema che sarebbe importante esaminare, magari creando anche degli strumenti ad hoc, perché comunque si parla di percorsi formativi che non si risolvono in 900 ore. ci vuole un pochino più di tempo, ci vuole un tipo di formazione work based. Insomma ci sono vari aspetti molto importanti di questo settore e devo dire mi fa piacere che in questo momento vengono presi in esame. Grazie allora dottoressa Guidi, la interrompo semplicemente per lasciare spazio alle senatrici i senatori presenti che vogliono intervenire. Darei la parola al relatore di questo provvedimento, al senatore Cantalamessa che ha voluto fortemente questo provvedimento che venisse attivato e soprattutto incardinato iniziare le audizioni. A lei la parola. Grazie presidente, grazie dottoressa per l'esposizione, noi abbiamo avuto modo di incontrarci via web un po' di tempo fa e la cosa che mi ha colpito è che quando si parlava di artigianato a alta gamma lei diceva sempre iniziamo a capire A cosa è l'artigianato, B che cosa è l'artigianato a alta gamma perché sembra banale, scontato, ma di fatto non lo è. Ha parlato di codici che per poter identificare questa cosa e questa secondo me come Parlamento e come Commissione deve essere una cosa che ci deve vedere magari uniti in una risoluzione finale per permettere di identificare quello che sono il riconoscimento dell'artigianato d'alta gamma o artistico d'eccellenza. La cosa che mi colpisce è che lei quando ha parlato delle aziende che fanno artigianato di alta gamma parliamo di aziende micro o piccole che fanno tanto export. Normalmente per fare export un'azienda deve essere strutturata con dei reparti, penso al marketing, penso all'internazionalizzazione che mi viene difficile da pensare che possono esistere in aziende micro e piccole. Secondo lei cosa può fare il Parlamento per aiutare quello che mi ha colpito è un settore che ha una rilevanza economica, sociale e culturale, ho segnato queste tre parole, per dare una mano sia in quelli che sono i due problemi fondamentali, sia la formazione del personale per cercare di ridare il valore che merita all'artigianato d'alta gamma, sia per aiutare nell'export le tante aziende che non hanno la cultura o non hanno i numeri per poter andare all'estero. Grazie, solo un attimo dottoressa Guidi, lascerei ancora la parola al senatore Nave. Grazie Presidente, ringrazio anche io la dottoressa Guidi per l'esposizione, in realtà ci si occupa di impresa e già questo per noi diventa importante ed è un elemento di rimenti in una commissione come la nostra. Il collega Cantalamessa in realtà ha messo in evidenza quelli che erano poi i punti fondamentali su cui poter intervenire, quindi in realtà ha, al di là del personale che manca, quindi il funzionamento magari delle academy, quindi la domanda è questa, secondo lei la formazione attraverso le academy, non le ATP, di cui ci siamo anche occupati, potrebbe essere o riesce a risolvere il problema della mancanza, oppure in che modo fare sinergia tra impresa e scuola affinché diventa attrattivo questo artigianato, perché ho visto anche i distretti ora, insomma più o meno passano informazioni anche sul mainstream dove il problema fondamentale è questo mismatch tra la richiesta di personale e di ragazzi che in realtà non riescono a individuare i percorsi su cui andare ad operare, quindi se basta questo e se in realtà l'istituto licee, che poi dovrebbe essere l'istituto nazionale che aiuta le imprese all'estero, se va nella direzione giusta o ha bisogno di essere incrementato, ha bisogno di dotarsi di una struttura differente, perché in realtà ritengo che sia fondamentale che un'industria, una piccola impresa familiare abbia la caratteristica, la capacità di digitalizzarsi al punto tale da poter fare poi un export fondamentale, al di là dell'immagine che può avere del prodotto come inventiva. Insomma queste erano più o meno le domande che volevo riproporre. Grazie Senatore Nave, la Senatrice Liccheri. Grazie Presidente, buongiorno dottoressa. Sì, anch'io ringrazio per quanto ho esposto in modo molto interessante e la ringrazio anche per questo. Sì, la nostra riflessione è appunto, come dicevano i colleghi, in che modo possiamo intervenire, perché il settore nella sua grande ampiezza risulta essere, come diceva lei, poco accattivante per i giovani. Però mi chiedevo se dal lato dell'artigiano magari le difficoltà, io penso al problema dell'energia che magari negli ultimi anni vi ha colpito, se in questo fronte, su questo fronte il Parlamento può comunque intervenire perché magari ci sono anche delle difficoltà da parte di chi dovrebbe assumere, ad assumere. Quindi, ecco, individuare più nello specifico i punti dove noi possiamo intervenire, dove il Parlamento può intervenire. Grazie. Grazie Senatrice Liccheri. Lasciamo ora la parola alla dottoressa Guidi. Le chiedo di essere molto molto breve perché comunque abbiamo altre persone da udire. All'imente comunque, visto che già della documentazione ce l'ha lasciata, se vuole poi integrarla, siamo completamente a disposizione. Grazie. A lei la parola. Allora, intanto grazie a voi. Allora, per ciò che concerne il tema internazionalizzazione e export, noi, Lice ha fatto per anni, continua a fare una serie di percorsi per facilitare la partecipazione delle aziende, dell'artigianato artistico, quelle più strutturate ovviamente, a una serie di manifestazioni di settore. Noi, nello specifico, abbiamo lavorato con loro molto su Maison et Objets, abbiamo lavorato su ambienti, abbiamo lavorato in altri paesi. Quello che può essere utile anche nell'ambito di ICE è mettere in programma promozionale delle manifestazioni più tarate su aziende minori. Mi spiego. Maison et Objets tout court è una fiera per operatori a Parigi, è importante perché ci vanno visitatori da tutto il mondo, molto bella qualitativamente. C'è un padiglione specifico che si chiama Craft e che è gestito da Atelier d'Art de France. Ecco, per esempio, alcuni spazi lì dentro sarebbero interessanti perché? Perché significa dare la possibilità ad aziende un pochino meno strutturate di essere su un mercato internazionale, se si parla poi di manifestazioni fieristiche. E come questa ce ne sono altre, ci sono manifestazioni rivolte un pochino più al pezzo unico o a produzioni più limitate sempre nelle produzioni artistiche. Ad esempio adesso stiamo lavorando con ICE per la partecipazione a Révelation, che è una biennale delle arti decorative nel 2025 a Parigi, in cui l'Italia dovrebbe essere ospite d'onore. Quindi ICE sta già facendo molto, forse inserire nel programma promozionale per un target di altra natura altre manifestazioni, censendole prima e individuando altre possibili vie di presentazione. L'e-commerce è stato importantissimo durante il Covid, è uno dei canali. Non pensiamo che possa risolvere il problema anche le grandi piattaforme, ci sono stati esperimenti noi per primi con Amazon, ci sono con Alibaba e quant'altro. I grandi marketplace sono troppo generici per un prodotto che comunque costa, perché c'è il prezzo, alcuni lavorano bene su Etsy. Sicuramente supportare le aziende per far sì che abbiano un loro e-shop, questo è molto importante perché significa valorizzare la propria immagine, sapersi raccontare. Ecco, questo dello storytelling è un tema che emerge spesso, emerge anche nella legge del Made in Italy, quando si parla delle indicazioni geografiche. Quindi supportare queste aziende significa anche cercare nella programmazione già esistente magari di studiare dei percorsi che siano tarati su dimensioni aziendali minori. Questo sicuramente. Il tema dell'energia sicuramente è stato molto pesante, soprattutto per i settori energivori. e quindi se si riesce ad agire su questo è importante. Il tema della formazione è un tema lungo, giustamente i tempi sono quelli che sono. Forse guardare anche altri sistemi in cui, ad esempio, ci sono licei o comunque istituti superiori di educazione secondaria e terziaria esclusivamente votati all'artigianato artistico. Ecco, per esempio, nel sistema francese ce ne sono diversi, funzionano. Un esempio c'è anche in Italia, che è il Cometa. E potenziare, ecco, mettere magari nel liceo del Made in Italy anche qualche cosa di manuale e non soltanto di marketing del Made in Italy, ma anche di produzione del Made in Italy. Forse potrebbe essere una possibilità. Grazie, dottoressa Guidi, perciò la ringraziamo molto. Se vuole integrare, può integrare con altra documentazione, siamo a disposizione. Passiamo alla prossima audizione. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Quindi dopo aver letto che dato Fondazione Altagamma entro il 2027 mancheranno 346.000 lavoratori specializzati nei quattro settori del Made in Italy, quindi automotive, arredamento, abbigliamento e agroalimentare. Dopo aver letto che 4.347 attività nel Comune di Roma, Fonte Confartigianato, hanno chiuso, quindi perché Rite il Classico sta soffrendo molto. E dall'altra parte avrendo noi un rapporto privilegiato con molti direttori d'albergo di grandi hotel, soprattutto a Roma, quindi parlo sempre tenendo in mente il contesto romano, dove il cliente altospendente cerca esperienze autentiche, prodotti autentici, soprattutto fatti a mano, perché c'è un aumento delle richieste di un prodotto custom, quindi fatto artigianalmente. proprio perché pensiamo soprattutto con l'arrivo dell'intelligenza artificiale che l'Italia debba fare il contrario, quindi diventare il paese numero uno al mondo delle emozioni per prodotti unici e per esperienza a livello turistico. Quindi l'Italia dopo il Covid è diventata il primo paese per flussi turistici, prima del Covid c'è la Spagna, oggi vediamo che l'Italia ha questo primato. E pensiamo che il turismo di alta gamma debba trainare il Made in Italy, quindi perché Roma, che è la capitale d'Italia nel quale arrivano, è il primo punto di arrivo anche grazie all'aeroporto di Fiumicino, i clienti altospendenti cercano prodotti unici, proprio perché magari tutti i vari brand che non cito hanno negozi in tutte le capitali del mondo, ma in Italia si cercano il genius loci, quindi l'anima della destinazione, che è fatta da botteghe storiche tendenzialmente. La dolceita nasce quindi per la valorizzazione e la promozione dell'artigianato, quindi noi nasciamo proprio per, siamo un gruppo di manager, di professionisti, che nasce per supportare gli artigiani sia sulla parte marketing, che sulla parte commerciale, che sulla parte legale. Qui abbiamo il segretario generale Giuseppe Molinari, che dà supporto su alcune tematiche importanti e anche sulla parte finanziaria. Il primo progetto che abbiamo messo in campo è stata la Made in Italy Week, quindi sono stati quattro giorni, quindi dall'11 al 15 aprile, che si sono svolti a Roma, soprattutto nei grandi alberghi di lusso, quindi Serrigis, Edition e W, in prossimità di Via Veneto, perché Via Veneto ha sempre rappresentato una via iconica sia per Roma ma anche per l'Italia, ed è il simbolo della dolce vita al quale comunque ci ispiriamo come idea di italianità e legata a sempre due concetti di emozioni e di esperienze. Oggi noi stiamo lavorando su un prossimo progetto sul costruire una casa dell'italianità, del fatto a mano, con l'idea di costruire uno studio associato di artigiani, proprio per dare ai clienti sempre più esigenti un posto dove trovare diverse esperienze, quindi dal sarto al camiciaio al barbiere a un American Bar, quindi una casa Italia con un concetto di ospitalità che metta insieme diversi artigiani, riprendendo un po' la rete d'impresa, che è un progetto di Confindustria che per andare a soddisfare e andare a combattere all'estero con grosse imprese, molte aziende di diversi settori si mettono insieme proprio per partecipare a dei contract importanti. Gli obiettivi che ci siamo posti sono quelli di investire nell'artigianato e nei giovani, soprattutto far fare all'artigiano quel salto che ha fatto dal cuoco a chef, quindi abbiamo visto per esempio questo passaggio nel quale molti giovani ambiscono a diventare chef proprio perché è stato fatto un lavoro di comunicazione importante sia a livello media, televisivo, ma anche costruendo dei personaggi come Cannavaciuolo, Cracco, che sono dei personaggi raggiungibili, che ispirano i giovani a diventare degli chef. Mentre prima il cuoco era magari un lavoro che veniva denigrato, oggi ha avuto un cambio di percezione proprio attraverso la comunicazione, quindi ci vogliamo ispirare un pochino a questo elemento qui, ma in maniera pratica perché ci sono molti magari che ne parlano, però bisogna poi mettere in campo azioni molto concrete. Stiamo pensando anche un nome cool per rappresentare l'artigiano, che può essere maker, man of doing, creator o artist, un nome cool che ancora ci stiamo lavorando proprio per cercare di costruire uno storytelling, perché pensiamo che la comunicazione sia fondamentale per attrarre nuovi giovani. Io dico sempre oggi col fenomeno Sinner, molti si iscrivono alle scuole tennis, quindi è importante avere dei giovani raggiungibili di successo sul quale costruire una strategia di comunicazione. Un altro elemento importante dell'artigianato che è sostenibile, perché oggi stiamo passando da B2B, B2C a human to human, quindi l'aspetto umano nel quale uno quando va da un sarto o va da uno scarparo e pensa insieme all'artigiano il prodotto, sceglie il tessuto o il pellame e costruisce insieme quel prodotto, quello crea una legacy importante con il prodotto e contrariamente al fast fashion che ha un po' distrutto il nostro settore dell'artigianato, ma anche come la colpa è stata un po' della globalizzazione, oggi stiamo tornando a dei clienti che vogliono costruire un prodotto unico per loro, seguendo tutti i vari step insieme all'artigiano e questo crea un legame importante e quel prodotto poi non viene buttato, ma magari viene, se si rompe, aggiustato e tramandato alle future generazioni. Quindi pensiamo che comunque è un prodotto molto sostenibile e ha dei valori molto importanti. Un altro obiettivo è quello di cercare di promuovere verso le nostre generazioni la cultura e le tradizioni di questo Paese che attraverso la globalizzazione sono venute meno, la mia generazione, io ho 35 anni, forse è stata penalizzata anche da una frase, se non studi vai a lavorare, quindi noi siamo sempre stati il Paese delle piccole e medie imprese, questo tessuto imprenditoriale oggi soffre un pochino, perché dove nella provincia soprattutto, io poi sono veneto, c'è un tessuto molto importante di queste piccole e medie imprese, oggi sta soffrendo perché non trovano, tra virgolette, ritornando, lavoratori specializzati che prendano in mano piccole e medie imprese e cercano, tra virgolette, di farle crescere. Un altro elemento importante che pensiamo sia fondamentale è la community, cioè costruire un gruppo di persone tra professionisti, artigiani e persone, tra virgolette, anche istituzioni, con il quale condividere delle best practice e crescere insieme, perché talvolta l'artigiano è abbandonato a se stesso nella bottega nel quale deve combattere tutti i giorni con le richieste sempre crescenti magari dei clienti e talvolta non riesce a gestirli, perché un cliente trattospendente magari ha diverse richieste, parla inglese e magari l'artigiano non ha queste competenze. Burocrazia, talvolta ci sono delle piccole e medie imprese che lavorano per grandi brand e subiscono, tra virgolette, dei diktat dai grandi brand a livello di dilazione, di pagamento, ma anche gli mettono dei tetti su dei prodotti o dei prezzi e quindi la piccola e medie imprese viene un po' schiacciata, la filiera, la cosiddetta filiera che sta dietro ai grandi brand viene schiacciata e talvolta non hanno la forza, queste piccole e medie imprese, di costruire un brand, perché oggi costruire un brand è molto costoso ed è comunque un limite importante. Siamo partiti da Roma, perché oggi Roma è una destinazione dove stanno arrivando molte aperture di grandi alberghi di lusso, quindi si sta trasformando, si sta riposizionando, due dati sulla Made in Italy Week, abbiamo quasi 30 aziende artigianali guidate da giovani che sono state ospitate, 600 partecipanti, le esigenze del settore, quindi le esigenze del settore sono quelle di avere strumenti, come ho detto prima, di sales e marketing e finanziario, e quindi ho finito insomma, se avete qualche domanda a disposizione. Grazie, ho notato che nell'esporre la ringrazio, mentre facevo i passaggi citava già le esigenze del settore, perciò è stato importante e la ringrazio. Lascierei la parola al relatore, al senatore Cantalamessa. Grazie Presidente, grazie Davide Scarparo per l'esposizione, ma per quello che sta mettendo in moto, noi ci siamo conosciuti qualche mese fa e mi ha colpito il fatto della Made in Italy Week, del puntare sull'artigianato e sulla riflessione che ha fatto, che secondo me è la pillola che mi porto dalla sua audizione, se non studi vai a lavorare e poi abbiamo difficoltà a trovare gli artigiani, quindi su questo c'è da fare tutto un discorso sulla formazione. Di domande non ne ho, perché come ha detto giustamente il Presidente, lei nella sua esposizione indicava anche delle soluzioni, quindi sulle quali dobbiamo fare un approfondimento per vedere di provare a dare una mano e far tornare la voglia ai ragazzi di fare un lavoro che è apparentemente sfigato, invece è un lavoro che ha un altissimo valore. Grazie Senatore Cantalamessa, la parola al Senatore Nave. Grazie Presidente, mi sarò breve, poiché nasce, si porta in evidenza questa necessità di incontrare giovani, quindi una formazione continua, di ritrovare proprio un nuovo, dare fervore ad un comparto che sembra spento. Qual è l'elemento, chiedo scusa, che manca finché i giovani vengono invogliati a ritornare a fare l'artigiano sul lavoro, perché ritengo che sia non solo una questione aggiungere oltre alla questione salariale, perché molto probabilmente in genere in piccole e micro imprese magari si tende a non avere poi magari quello stipendio necessario che possa essere attrattivo, ma chiedo se anche secondo lei non possa essere anche opportuno rivedere la qualità del lavoro, quindi aggiungere elementi che possano rendere attrattivi del lavoro, quindi al di là del classico lavoro, delle otto ore, cioè magari rendere... oggi i giovani hanno un approccio differente al lavoro, anche nel cambio, e pensano probabilmente molto meno al punto salariale, anche se è dirimente, ma molto più a una qualità di vita che sia maggiore. Quindi anche lì, secondo lei, si deve incidere da questo punto di vista. Grazie. Grazie, della Torrenave. La parola alla senatrice Liccheri. Velocissima. Grazie, Presidente. Ringrazio per l'esposizione. Velocissima. In questa grande community la Sardegna è coinvolta in qualche modo, e poi comunque, seguendo quello che diceva il collega Nave, prima si discuteva del problema, della difficoltà a rendere il settore accattivante. Io trovo che questo strumento che voi state sperimentando, quello di far conoscere, qui leggo, attraverso video immersivi ed esibizioni, questo sicuramente è uno strumento che potremmo suggerire ed estendere anche ad altri vostri colleghi che ci stanno evidenziando quanto sia difficile rendere il settore accattivante. Quindi grazie e complimenti. Grazie, senatrice. Lascio brevemente a Scarparo la parola. Meno di un minuto, grazie, perché poi abbiamo... Allora, sul primo punto, cosa serve ai giovani per rendere accattivante questo mestiere? Servono giovani di successo. Quindi sono dei giovani che guadagnano cifre importanti e hanno magari anche, sono bravi nel lavoro, vanno in giro per il mondo con tanti sacrifici. Va costruita una comunicazione. Io ho proposto anche di fare una serie tv sugli artigiani, giovani soprattutto, perché ci sono raccontati da giovani. Quindi vanno messi riflettori su queste persone. Perché, ripeto, i giovani, come tutti, quando iniziamo un percorso seguiamo persone di successo. Quindi se vediamo qualcuno di successo, bello, giovane, che parla bene e racconta con entusiasmo quel mestiere, sicuramente, tra virgolette, attrae altri giovani. Quindi questo penso che sia fondamentale. Sulla Sardegna, non abbiamo avuto giovani dalla Sardegna. Stiamo parlando con il gruppo Forte Village per fare magari una sessione in Sardegna. Dolce Gabbana ha appena fatto una sfilata in Sardegna. È una regione, io ho potuto lavorare con il Forte Village, anche, che ha una tradizione artigianale pazzesca. Dobbiamo, ripeto, rendere cool l'artigianato. Abbiamo tante unicità, tante... Noi siamo il paese, finisco con questo, che ha più differenze al mondo. Perché se pensiamo a che un piatto tipico in ogni provincia cambia, no, il piatto tipico. La globalizzazione ha reso il mondo uguale. L'Italia è il paese numero uno per differenze e dal momento che siamo tutti uguali la gente cerca diversità. Quindi dobbiamo valorizzare la diversità in maniera importante e soprattutto comunicazione, comunicazione, raccontarla bene. Grazie, Presidente. Naturalmente le faccio anche i complimenti per l'età, perché comunque lei è molto giovane, a dispetto del fatto che non potrebbe fare il senatore. Comunque la ringraziamo e passiamo l'audizione successiva. Grazie. Grazie, buongiorno. Potete... Magari chiedo alla senatrice naturale se si può magari spostare, grazie. Alla mia vicepresidente, grazie. Alla nostra. Mia no, non è mia. No, ma è molto interessante, è vero, è vero, è molto interessante il tema. Avete ancora un posto libero anche qua davanti. Bene, buongiorno, grazie. Proseguiamo l'attività sull'affare assegnato numero 478, artigianato di alta gamma, audizione dell'Associazione Le Mani di Napoli. Abbiamo qui il Presidente Damiano Annunziato, la responsabile dell'azione istituzionale Sabrina Iadarola, Cristina Dalcuore, Alessandro Totaro, Angela Cappezzuto e Giovanni Angri. Io lascerei a voi la parola per cinque minuti e poi vediamo di aggiornarci anche con le interlocuzioni e le domande dei commissari. Grazie, a voi la parola. Buongiorno, Presidente. Buongiorno a voi, senatori, qui presenti. Grazie della vostra attenzione rivolta alla nostra realtà e al mondo artigianale. Grazie di avermi dato la possibilità di poter interloquire con voi. Io sono Damiano Annunziato, come avete detto, Presidente, delle Mani di Napoli, che è un'associazione nata circa tre anni fa per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico napoletano e italiano. È una novità assoluta poiché siamo riusciti per la prima volta ad unire in un unico organismo le storiche sartorie napoletane, non solo, in via più generale, tutti i maestri d'arti detentori delle antiche tradizioni manifatturiere, identitarie e rappresentative del nostro territorio, che vanta una storia nel campo sartoriale, che nasce nel lontano 1300. Le Mani di Napoli, all'origine, è nata come un'associazione composta da persone fisiche e giuridiche proveniente dalla regione Campania. Abbiamo all'interno una quota culturale di soggetti che si sono distinti per conoscenze e impegno nel campo dell'artigianato. Oggi però, grazie alla spinta ricevuta da altre associazioni che si occupano sempre di artigianato di eccellenza, che ci hanno guardato con attenzione e hanno mostrato interesse a lavorare nella nostra stessa direzione, le Mani di Napoli sono diventate molto di più. Abbiamo iniziato a tessere relazioni con le istituzioni, con le stesse altre associazioni, mi riferisco alle botteghe di San Gregorio Armeno, a San Leucio, alle ceramiche di Capodimonte, al distretto Calzaturiero, ai coralli di Torre del Greco, e così via. E oggi mi trovo qui a dare voce a un territorio. Da questa collaborazione è nata ad esempio l'evento da Napoli Crea in occasione del 15 aprile, della giornata del Made in Italy istituita dal Ministero, nella quale abbiamo visto riconfortarsi attraverso dibattiti e workshop da un lato artigiani che producono eccellenze e alta qualità, il cosiddetto artigianato di lusso di alta gamma, coinvolgendo maestri che vanno dalla sartoria alle ceramiche, ai presepi ai coralli, e dall'altra c'erano voci autorevoli di istituzioni, accademici, e abbiamo affrontato insieme i temi del Made in Italy. È un evento che ha registrato la presenza di oltre 500 persone, senza considerare noi addetti ai lavori, espositori, relatori e stampa. L'iniziativa ha avuto un impatto molto positivo, sia per i temi trattati, ad esempio per la prima volta a Napoli in Italia è stato trattato il tema di strettissima attualità e prioritario, ovvero quello delle indicazioni geografiche. Si è parlato di formazione attraverso le esperienze di ITS e il nuovo progetto dell'Accademy dell'Artigianato della Federico II. In questi mesi di luglio ha preso forma la collaborazione, come dicevo poc'anzi, dell'Accademy della Federico II, sull'artigianato nella quale noi, mani di Napoli, siamo entrati ufficialmente come comitato scientifico. Voglio aggiungere che stiamo già lavorando per modificare e definire un disciplinare, già presentato alla stampa in occasione del Pitti, adeguandoci alla direttiva europea che entrerà in vigore nel 2025 attraverso il riconoscimento della sartoria delle indicazioni geografiche e proprio per questi motivi da alcuni giorni siamo soci di Origin di Ginevra. Vi ho fatto un quadro generale di ciò che siamo, ma vi porto alla luce un dato rilevante. La potenzialità sociale che ha l'artigianato in Italia è la flessibilità di scelta che il saper fare offre a chi si impadronisce di un mestiere. La differenza tra l'artigianato e l'industria è in riferimento al personale da collocare nell'uno o nell'altro. Basti pensare al settore moda. All'industria della moda mancano ad esempio più di 7.000 tecnici, fondi di confindustria, su un fabbisogno annuale di circa 9.000 profili specializzati perché sistema educativo ne forma poco, più di 2.000. Nell'artigianato della moda invece la figura più ricercata è quella del sarto, tanto che dall'estero giungono in Italia molti giovani ansiosi di compiere un apprendistato presso le nostre sartorie, vere e proprie officine formative per poi aprire una loro bottega nel loro paese. Il pericolo è anche del mancato ricambio generazionale. Nei prossimi tre anni saranno 90.000 i posti di lavoro di artigiani e lavorativi specializzati che rischiano di rimanere scoperti a causa dei pensionamenti, della richiesta di nuove posizioni dell'industria fashion. Nei distretti produttivi italiani c'è il concreto rischio di trovarsi in pochi anni con un esercito di banchi di lavoro vuoti, che sale ulteriormente se guardiamo all'alto artigianato, per il quale occorre un percorso che offra un rinnovato appeal da costruire intorno alla figura dell'artigianato, una professione dalla quale per molti anni i giovani hanno probabilmente cercato di tenersi alla larga, spaventati da prospettivi salariali mediocri e che oggi invece possono dare vita a percorsi professionali ricchi di soddisfazione economica e sociale, oltre a costituire una leva molto contro la dispersione scolastica. La sfida è formare nuovi artigiani che unendo contemporaneità e tradizione, creatività e conoscenza rispondono pienamente alle esigenze del mercato e soprattutto siano in grado di acquisire e trasmettere l'arte dei singoli mestieri e lo stile del nostro paese grazie a una formazione di alto profilo non solo teorica ma da svolgere per gran parte in bottega. E Napoli, questo è il punto focale, è la città che più di altre ha un rapporto viscerale con la mode, dove lo stile è quasi una componente integrante dell'animo cittadino. L'associazione Le Mani di Napoli sta già lavorando alla nascita dell'Accademia Universitaria, è la prima in Italia istituita da un ente pubblico per proiettare nel mondo contemporaneo l'antica tradizione della moda partenopea. Sarebbe forse opportuno che tale percorso venisse promosso a livello nazionale presso le scuole di primo grado o attraverso l'istituzione di scuola i cui programmi siano dedicati a vari settori dell'artigianato alto, meglio se rispettando le specificità delle vocazioni territoriali. Detto questo, io posso dire delle mie esperienze personali, perché io faccio parte della sartoria dal cuore, abbiamo clienti in tutto il mondo, siamo tornati da poco, io e me moglie dall'Asia, dove giriamo, Taiwan, dove ci accolgono, firmano le giacche che noi facciamo, quindi questo Made in Italy è riconosciuto nel mondo. Io credo che tutti uniti, tutti insieme, possiamo realmente far emergere questo sogno per i giovani, perché loro non devono chiedere sempre cosa faremo nel futuro, loro ce l'hanno e noi dobbiamo aiutarli, quindi con una nascita di una scuola e con dei passaggi importanti, credo che il Made in Italy è famosissimo nel mondo e noi lo portiamo con fierezza. Grazie Presidente Annunziato, credo che la Sabrina Iadarola voglia intervenire, lascio a lei la parola per qualche minuto. Grazie. Mi unisco ai ringraziamenti del Presidente Annunziato a tutta la Commissione per l'attenzione che state dando in questo momento all'artigianato. Io vorrei focalizzare l'attenzione su un tema, visto che si parla tanto della necessità di valorizzare l'artigianato, eccetera. Il punto focale, secondo me, è definire l'artigianato di alta gamma. Tutto lì è, perché oggi parliamo di artigiani quando parliamo del macellaio, quando parliamo dell'idraulico e parliamo del sarto che produce Made in Italy, diciamo che esporta nel mondo o comunque del gioielliere che fa delle creazioni artistiche famose in tutto il mondo, li mettiamo alla stessa stregua. Allora, se guardiamo a questa categoria da un punto di vista di impresa, quindi quello che le Camere di Commercio registrano come impresa artigiana, possono essere anche assimilabili per taluni aspetti. Ma se li guardiamo in termini di valore e di peso, sia per quanto riguarda il Made in Italy nel mondo, sia per quanto riguarda l'indotto turistico, faccio un esempio molto breve. Se parliamo, diciamo, di grandi numeri, le imprese artigiane non spostano grandi numeri e quindi tutti i provvedimenti guardati sotto il profilo, diciamo, dei grandi numeri che può spostare a livello economico, un'impresa artigiana non ci rientrerà mai. Ma se pensiamo alle botteghe di San Gregorio Armeno, che voglio dire sono fatte per lo più di aziende familiari, a conduzione familiare, numeri scarsissimi, nell'indotto, diciamo, del turismo napoletano, spostano un milione di visitatori nel solo periodo natalizio. Questo che cosa, diciamo, perché voglio soffermarmi su questo aspetto? Perché secondo me, se si parte da una definizione chiara di che cosa è l'artigianato di alta gamma, poi tutti i provvedimenti vengono un po' da sé. Viene da sé anche i provvedimenti che riguardano l'accesso al credito, perché oggi una banca che guarda ad un'impresa artigiana soltanto da un punto di vista numerico comincerà a guardare l'indotto che quell'impresa artigiana può comportare a livello, diciamo, di valorizzazione del made in Italy nel mondo, a livello di indotto turistico su un territorio. Quindi è chiaro che le logiche, diciamo, di approccio, diciamo, all'artigianato cambierebbero totalmente. È chiaro che quando parliamo di definire in maniera chiara l'artigianato artistico, dobbiamo considerare che cosa? Considerare l'esclusività del prodotto? Dobbiamo considerare l'unicità? Dobbiamo considerare la durabilità, l'alta qualità dei materiali prodotti? Quindi ci sono tutte, diciamo, caratteristiche che andrebbero considerate. È chiaro che c'è anche un aspetto legato alla sostenibilità, che è una cosa non trascurabile in questa fase, nel senso che le grandi logiche industriali producono a costi molto elevati. Nell'artigianato si produce a costi, invece, molto bassi. E a chilometro zero. Ultimo tema che vorrei introdurre è quello della formazione, perché, diciamo, è stato in qualche modo già accennato dal Presidente. L'artigianato artistico di alta gamma non è un artigianato che si può apprendere in maniera, come dire, scolastica, in serie. Cioè, non ci sono dei programmi predefiniti. L'artigiano può diventare un artigiano di alta qualità e tramandare la tradizione nel tempo se vive la bottega. Quindi, il percorso che è stato in qualche modo già avviato quasi autonomamente dalle mani di Napoli sul territorio campano, che potrebbe essere esportato anche in altri territori italiani, fa sì che, essendo le mani di Napoli direttamente nel comitato scientifico di un'accademy pubblica, quindi destinata, diciamo, non parliamo delle scuole private che nascono all'interno di sigle o di associazioni o di aziende o di... Parliamo di una università che mette a disposizione un corso per diventare sarti, sarti però di eccellenza. Questo, chiaramente, potrebbe essere esportato anche ad altri settori, come quello delle ceramiche, come quello dei presepi, esatto, una formazione che non solo, diciamo, venga fatta sul campo e fatta in maniera approfondita affiancando, diciamo, un maestro artigiano ad uno studente, ma una formazione che dia anche delle competenze molto trasversali e molto legate ad una dimensione internazionale e che potrebbero rendere anche più depille la professione dell'artigiano. Cioè, noi continuiamo a guardare spesso l'artigiano come una professione di serie B, mi metto a lavorare in una bottega perché non trovo altro da fare. Andrebbe fatto, e da questo punto di vista forse le politiche governative potrebbero dare un supporto, andrebbe fatta una grande campagna mediatica per dare valore e risalto alla figura dell'artigiano affinché l'artigiano diventi una figura figa. Cioè, proprio una figura di moda. Rende, rende questo termine. La ringrazio molto, lascerei la parola al relatore senatore Cantalamessa. Grazie presidente, grazie al presidente annunziato e alla responsabilità di direzione istituzionale Iadro e la nuova. Io con loro sono evidentemente in contatto da tempo e mi piace evidenziare una cosa che normalmente non sta venendo fuori uno dei vari problemi che secondo me ha l'artigianato che è l'invidia o la competizione tra gli artigiani che porta a non vedere il tanto che unisce ma solo il poco che se vara. Il fatto che loro abbiano avuto la capacità di mettersi tutti insieme di scegliere ed associazione di artigiani di alta gamma a livello locale una responsabile delle azioni istituzionali sta a indicare un posizionamento di lunga visione che secondo me serviva per il resto tutti gli spunti che hanno dato sono spunti interessanti e che in qualche maniera noi abbiamo cominciato le audizioni stamattina già ci sono una serie di costanti A che cosa è l'artigianato B far diventare questo lavoro figo C il discorso della formazione dell'internazionalizzazione e l'accesso al credito quindi ottimo che lasciate ai lavori parlamentari quelle che sono le vostre audizioni perché poi su quelle ci lavoreremo grazie Grazie Senatore Cantalamessa la parola Senatore Nave Grazie Presidente ringrazio anche il Presidente annunziato non se non altro per la passione con cui ha raccontato la storia e oggi mi trovo pienamente d'accordo con quanto afferma questa cosa mi preoccupo ma entrambi i napoletani quindi non potevamo essere da meno uno il punto importante l'artigiano come catalizzatore questo è un elemento su cui in realtà dovremmo ragionarci di più in realtà sposta poco ma in realtà crea poi un indotto che diventa tanto quindi è fondamentale e trovo interessante questo punto l'altro era quello sul consociativismo da Roma in giù è un problema proprio per quell'invidia che normalmente cresce noi non lo abbiamo in tanti settori non lo abbiamo con la mozzarella non lo abbiamo perché? perché c'è sempre questa differenza che questo come dire sospetto tra l'uno e l'altro quindi questo è un elemento su cui lavorare anche sull'accesso al credito credo che avremo possibilità per poter fare degli aggiusti invece la parte sulla formazione se noi lavoriamo il sarto il sarto poi vuole andare nella grande impresa cioè il ragazzo diciamo sono laureato che faccio lavoro nella bottega se nasce dalla bottega avremo un elemento differente allora io mi chiedo invece qual è l'aspetto sociale che operate come in questo caso come associazione come dire avete l'idea di pensare di poter lavorare sulla dispersione scolastica quindi tutti quei ragazzi che hanno abbandonato il percorso e che in realtà potrebbero essere inclusi in un'academy differente cioè li prendiamo vi cresciamo vi diamo l'opportunità che probabilmente dal sud diventa anche questo un elemento fondamentale grazie grazie senatore Nave la parola alla senatrice Liccheri grazie presidente sì anche io voglio fare i complimenti io sono particolarmente legata al settore della ceramica quindi ho vissuto ho visito città della ceramica anche quella da cui provengo io fare un'associazione tra ceramisti è sempre un problema faticoso quindi davvero complimenti per questo c'è un passaggio che non ho capito sicuramente mi sono distratta quando lei diceva si riesce a produrre comunque con costi sostenendo dei costi bassi quindi giusto due righe per capire meglio questo concetto grazie grazie senatrice Liccheri la parola alla senatrice naturale che è anche vicepresidente di questa commissione grazie presidente io ringrazio l'associazione Le Mani di Napoli che hanno portato insomma un quadro d'insieme importante si vede che provengono da una terra in cui le botteghe l'artigianato insomma hanno la loro storia meritano un futuro di un certo pregio perché parlare di artigianato a mio avviso significa parlare di arte e quindi la criticità a quel che mi sembra di aver capito che proprio queste piccole botteghe non hanno sufficiente visibilità sufficiente sostegni per affrontare quella che è poi la globalizzazione perché parliamo anche dell'Italian Sounding insomma quindi questi artigiani che vengono poi forse soffocati dalle copie quindi anche un eventuale mercato può essere inficiato perché chiaramente i prezzi dell'oggetto artigiano banale è diverso da quello che poi invece all'apparenza sembrano simili quindi vari prodotti allora non so se voi ritenete utile anche un albo di artisti quindi per questa alta gamma proprio per diversificare i prodotti e quindi dare il giusto merito a questi artigiani che davvero sono un valore grande per la nostra Italia grazie grazie senatrice vi lascio un minuto se c'è da integrare ascolti dottoressa D'Arola se c'è poi da integrare con un documento lo fate ho visto che comunque è abbastanza ricco quello che avete mandato grazie allora rispondo brevemente innanzitutto sul discorso della sostenibilità allora chiaramente le diciamo le botteghe considerando la lentezza dell'artigianato quindi i tempi diciamo di produzione sicuramente non abbiamo diciamo grandi spese o comunque dispendi di energia per quanto riguarda le produzioni in sé perché sono tutte condotte in piccoli laboratori non abbiamo quasi tutti fatti a mano quindi la differenza sostanziale rispetto all'industria è lo scarso utilizzo di grandi attrezzature che comportano comunque un grande dispendio di energia e spesso vengono diciamo vendute a chilometro zero nel senso che c'è un rapporto diretto tra chi produce e chi compra quindi questo è un po' il senso della sostenibilità passo invece al discorso dell'albo quando mi sono soffermata a lungo sul discorso del definire in maniera chiara l'artigianato di alta gamma è proprio per arrivare all'istituzione di un albo perché l'istituzione di un albo consentirebbe di tutelare da un lato le imprese artigiane di alta gamma senza andare a come dire creare contrasti o rotture rispetto a grandi sigle o diciamo imprese che fanno parte del mondo confindustriale quindi a ciascuno la propria diciamo il giusto intervento grazie lascio brevemente la parola al presidente se lei volevo rispondere velocemente al senatore la sfida delle mani di Napoli è nata proprio per questo riportare l'artigiano toglierlo da quella visione di Mastro Geppetto quindi come dice la dottoressa di Adarola farlo diventare figo questo è una grande rivoluzione culturale perché i ragazzi devono iniziare a capire di fare l'artigiano e amare questo mestiere perché se 20 anni fa mio padre mi diceva Damiano vuoi fare il cuoco all'epoca si chiamava il cuoco io dicevo di no oggi dico sì negli ultimi mesi è aumentata il 60% l'escezione i centri di tennis perché la televisione fa vedere sinner io credo che si deve fare una rivoluzione culturale nelle scuole in televisione e tra l'opinione pubblica il ragazzo deve dire io vado a fare noi vestiamo gli uomini più potenti noi vestiamo io e mia moglie la famiglia Altani allora loro questo devono capire noi viaggiamo 200 giorni all'anno questo devono capire non sono Mastro Geppetto quindi devono capire che un mestiere oltre ad amarlo diventeranno fighi grazie presidente allora io vi ringrazio molto dell'audizione se volete integrare mandateci dalla documentazione grazie e proseguiamo i nostri lavori arrivederci grazie a tutti 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 proseguiamo i nostri lavori sull'appare assegnato numero 478 artigianato di Alta Gamma con l'audizione delle manifatture Sigaro Toscano abbiamo con noi Stefano Mariotti l'amministratore delegato abbiamo Ilaria De Benedictis che è responsabile legale relazioni istituzionali e istituzionali e abbiamo Piero Tatafiore che è il consulente per le relazioni esterne le lascio la parola per 5 minuti poi interlocchiamo anche con i commissari grazie eccolo ecco allora grazie per questa opportunità è importante per noi potervi illustrare quelle che sono le nostre necessità due parole veloci su quella che è Manifattura Sigaro Toscano quindi siamo i proprietari ovviamente di un marchio allora noi mi scusi noi abbiamo problemi con la parte informatica però siamo tutti dotati del documento lei ce lo illustra noi lo sediamo poi tanto rimane a disposizione dei senatori grazie a lei la parola bene quindi Manifattura Sigaro Toscano quindi siamo i proprietari del marchio del Sigaro Toscano un prodotto che nasce praticamente 200 anni fa 200 anni fa anzi 209 anni fa per un incidente di percorso come molte eccellenze italiane quindi dall'epoca quindi 1815 nasce il Sigaro Toscano dal 1818 il Sigaro Toscano viene prodotto in maniera continuativa a partire da Manifattura di Firenze metà dell'Ottocento si sposta a Lucca dove ancora oggi abbiamo la nostra sede principale dove ancora oggi abbiamo la produzione dei sigari toscano a mano un reparto quello delle sigarai a mano unico al mondo nel senso che per trovare qualcosa di simile bisogna andare nei paesi caraibici ma con un processo che è comunque unico al mondo completamente diverso anche dalla produzione dei caraibici oltre alla Manifattura di Lucca abbiamo la Manifattura dall'inizio del Novecento abbiamo la Manifattura di Cava dei Tirreni che oggi è specializzata sui sigari aromatizzati e sempre protagonista del nostro passato e del nostro futuro il centro di raccolto di Fogliano della Chiana dove raccogliamo riceviamo ogni anno il tabacco dei coltivatori italiani ovviamente negli anni quindi il Sigaro Toscano è passato attraverso la storia d'Italia è passato attraverso la privatizzazione dei monopoli di Stato l'acquisizione da parte del Blicio American Tobacco e la vendita del ramo d'azienda a un gruppo di imprenditori italiani che dal 2006 hanno acquisito il ramo d'azienda del Sigaro Toscano hanno cominciato un export diciamo allo sviluppo anche dell'export del prodotto nel frattempo sono state acquisizioni acquisizioni di un'azienda svizzera che faceva dei sigari simili un'azienda americana che faceva dei sigari simili e anche una forte partnership per l'acquisizione del marchio di Nostrano del Brenta che è un altro Sigaro prodotto nel nord-est a Bassano del Grappa con una storia anche bicentenaria oltre che bicentenaria quindi diciamo tutto quello che sta fatto a Manifattura del Sigaro Toscano in totale complementarità sinergia col sistema Italia si concretizza questa sinergia appunto con il mantenimento dei siti italiani e soprattutto con l'acquisto del tabacco italiano di fatto noi acquistiamo tutto il tabacco italiano Kentucky che viene prodotto in Italia che è una produzione unica una produzione completamente manuale produzione che viene fatta in particolare Veneto Toscana Basso Lazio e Campania quindi l'anno scorso nel 2023 abbiamo acquisito abbiamo acquistato oltre 20 milioni di euro di tabacco Kentucky garantendo continuità a una filiera unica al mondo che conta oltre 3.000 addetti oggi ovviamente per quanto riguarda la coltivazione del tabacco Kentucky che è una coltivazione completamente manuale giusto per darle un'idea servono tra i 5-600 ore uomo per ettaro quasi 6 volte di più rispetto a altre coltivazioni di tabacco per coltivare un ettaro di tabacco Kentucky ci sono state molte difficoltà la crisi inflazionistica la mancanza di manodopera agricola aumento dei costi diciamo di coltivazione hanno fatto sì che cambiamenti climatici comunque impattano sulla qualità del prodotto quindi in questi anni MST rispetto al 2019 ha aumentato i prezzi di acquisto del tabacco Kentucky del 185% nel 2023 rispetto al 2029 ne parlavo delle sigaraie veniamo un po' più vicino ai temi che dobbiamo affrontare le sigaraie sono un'eccellenza italiana producono appunto un prodotto unico con la stessa tecnica che 200 anni fa e fanno un percorso di formazione che richiede almeno 18 mesi di formazione prima di poter arrivare a produrre almeno 500 sigari al giorno a ragazzo è qualcosa di incredibile con un processo unico appunto anche nei confronti dei sigari caraibici solo per darvi un'idea spesso quando si parla di sigari si pensa ai sigari cubani nel mondo si vendono circa 50 milioni di sigari cubani noi l'anno scorso abbiamo venduto 210 milioni di sigari toscano con un fattore di 125 milioni di cui il 30% viene fatto all'estero un sigaro ogni 3 che viene prodotto nelle manufatture italiane oggi viene venduto all'estero con un export che cresce nel 2023 del 22% rispetto all'anno precedente ovviamente tutto questo si basa su un valore il valore più grande che abbiamo le nostre persone oltre alla manifattura manuale abbiamo ovviamente tutta la parte di produzione a macchina produzione a macchina di sigari a macchina comunque considerate che una macchina fa intorno ai 20 sigari al minuto ogni sigaro viene controllato in maniera artigianale e minuziosamente dai nostri operatori negli anni MST naturalmente sta investendo molto sull'aggiornamento tecnologico e questo ha portato anche a necessità di dover riconvertire riqualificare tutti i nostri operatori a volte proprio un cambio di ruolo è stato siamo passati da una produzione su tecnologia meccanica a una tecnologia digitale elettronica per i sigari fatti a macchina questo ci ha richiesto la riqualificazione completa dei meccanici di allora che oggi sono chiamati appunto meccatronici abbiamo circa 400 persone il 99.9% sono a tempo indeterminato abbiamo soltanto 4 persone a tempo determinato questo proprio a testimonianza dell'impegno di MST a costruire un rapporto diciamo di solito leggevo con i nostri costri dipendenti per noi ovviamente la salute e la sicurezza sono delle proprie assolute in 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 prospettiva di tutelare il benessere proprie persone nel contratto integrativo del 2023 sono state ampliate le iniziative welfare evolvendo da un modello sociale puro a uno incontrato sulle esigenze di consumo e di aumento del potere di spesa dei dipendenti ecco in questo contesto sebbene sono state molto apprezzate le misure di welfare e disposizioni per l'anno 2024 sarebbe risplicabile una riforma strutturale in materia di welfare e fringe benefit che ci dia una visione un pochino più a lungo termine il costo del personale è una voce molto importante per MST il contratto nazionale del lavoro l'anno scorso ha comportato per il solo anno in corso un aumento delle retribuzioni del 7% quindi ovviamente ben comprensibile benvenuto l'impegno dell'organizzazione sindacale per fronteggiare il tasso di inflazione è evidente come un aggravio dei costi di queste dimensioni abbia impatti significative sulle risorse economiche dell'azienda tali costi ovviamente non possono essere girati sui prezzi dei consumatori considerato quello che è il clima economico in questo momento perché avrebbe una rigatuta su quelli che sono i volumi di vendita di produzione e quindi indirettamente anche sul livello occupazionale sarebbe pertanto importante è stato molto utile la riconferma anche per tutto il 2024 della decontribuzione del Sud sarebbe pertanto spiegabile per il futuro una conferma di questa decontribuzione di questa iniziativa ben oltre il 2025 quindi in maniera tale da cercare di contenere quello che è l'aumento del costo del lavoro l'ultimo punto che voglio portare a vostra attenzione ovviamente noi siamo impegnati anche nel trasmettere quella che è la nostra artigianalità sia dei sigari fatti a mano che dei sigari fatti a macchina alle nuove generazioni quindi abbiamo avviato programmi in cui prendiamo dei ragazzi maggiorenni che lavorano negli studi tecnici per poterli addestrare alla gestione delle nostre macchine al nostro saper fare stiamo pensando di poter costruire un'accademy in questo è con le scuole che sono nei nostri territori quindi nella zona di Arezzo per la parte di agronomi la zona Lucca per la parte di operatori meccanici e operatori manuali piuttosto che nella zona dei cava dei tirreni sempre dove abbiamo produzione di sigari a mano ovviamente sarebbe spiegabile che in questo senso ci siano delle agevolazioni per le aziende che investono in questa academy per facilitare proprio lo sviluppo e l'investimento dell'azienda in questa academy ad esempio dei contribuzioni per le ore di insegnamento che il nostro personale fa all'interno di questa academy quindi i punti rilevanti che voglio portare all'attenzione di questa commissione sono appunto i tre quindi una riforma strutturale del welfare e fringe benefit una conferma delle contribuzioni del sud anche per gli anni futuri non solo per il 2024 e un contributo un supporto alle aziende del Made in Italy che investono sulla formazione dei giovani grazie io darei la parola ai commissari lascerei per primo la parola al relatore al senatore Cantalamessa grazie presidente grazie dottore per l'esposizione ma soprattutto per quello che rappresenta sicuramente il sigaro toscano noi abbiamo sentito prima abbiamo cominciato stamattina le audizioni e spesso i marchi dell'artigianato alta gamma non hanno un valore cioè se io penso a una marca che fa vetro a murano piuttosto che un sarto napoletano tolti big i tre big non hanno un marchio riconoscibile perché si confonde con il Made in Italy voi siete diciamo uno dei pochi marchi diciamo che producete ancora prodotti artigianali ma che avete un marchio che rappresenta anzi è un emblema del Made in Italy ma che è un marchio riconosciuto riconoscibile al di là diciamo dalle tre parole Made in Italy e che cosa può fare secondo voi lo Stato per aiutare anche aziende che non hanno la riconosciabilità del vostro marchio o anche aziende con un marchio riconoscibile per andare di più verso i mercati esteri il fatto che le ha detto che uno su tre o due su tre si uno su tre e innanzitutto non sapevo numeri pazzesco rispetto ai cubani cioè noi produciamo più dei cubani ed è una cosa che mai mi sarei immaginato voglio dire e chiederle cosa potrebbe fare lo Stato al di là dell'aspetto diciamo delle incentivi al sud eccetera proprio su quel che riguarda la formazione cioè voi avete difficoltà a trovare i ragazzi che vogliono lavorare da voi se sì lo Stato può fare qualcosa in più al di là diciamo degli aspetti di contributi che non sono visti come contributi a pioggia ma contributi finalizzati per produrre di più è meglio fatturare di più quindi tutto qui grazie grazie senatore Cantara Messa lascio la parola al senatore Nave grazie Presidente io ringrazio il Dottor Mariotti per l'esposizione e in effetti Toscano rappresenta un'anomalia nel settore dell'artigianato d'alta gamma e per quanto finora abbiamo ascoltato nel senso che il nome anticipa già di per sé quello che è il prodotto e quindi la riconoscibilità a livello internazionale in effetti fate già quello che in altri chiedono avete la vostra la formazione all'interno di certo sul personale non abbiamo visto grandi criticità dal vostro punto di vista vediamo invece altri elementi che già in passato sono state chieste dalle imprese e quelle sulla detassazione magari dei fringe benefit dove effettivamente c'è una richiesta in genere laddove al dipendente viene concesso un beneficio quantomeno venisse detassato quindi lo renda più appetibili ma così come sulla decontribuzione sud certo è un'azione che porteremo avanti affinché questa venga poi prorogata negli anni successivi sull'Academy in che senso avete la necessità di incentivi questa parte è interessante grazie grazie Senatore Nave se non ci sono interventi le nostre senatrici lasciamo la parola a lei per una breve risposta grazie breve sì ma non posso per orgoglio nazionale non posso dire i sigari cubani sì i numeri sono questi nel senso che purtroppo ha un prezzo diverso nel senso però sì i numeri sono questi e devo dire con orgoglio quando mi capita di andare anche dei produttori Repubblica Dominicana Nicaragua che fanno dei sigari di stile caraibico e illustriamo quello che è il nostro processo e la nostra storia non c'è paragone nel senso spesso mi confronto con l'amministratore delegato dei sigari cubani e facciamo una gara a raccontare la storia dei nostri sigari non c'è paragone dobbiamo soltanto essere più bravi a farlo conoscere vado al punto ovviamente sì allora noi abbiamo una estrema difficoltà nel trovare personale nel trovare personale e personale equaificato quindi noi in maniera autonoma sia da soli sia all'interno dell'organizzazione alta gamma a cui apparteniamo stiamo lavorando per lavorare con le scuole per convincere le scuole alle scuole professionali a formare i ragazzi in maniera tale che diciamo sia poi possibile quindi forse anche facilitare questo rapporto tra azienda e scuola gli stage oggi dei ragazzi nelle scuole ci sono però non so quanto siano efficaci questo periodo di stage che i ragazzi devono fare nelle aziende mentre noi stiamo un pochino cambiando questo concetto di stage rendendo veramente dei periodi di lavoro dei ragazzi di training dei ragazzi sulle macchine piuttosto che meccanici piuttosto che operatori che fanno il sigaro ovviamente lo dobbiamo fare noi trattiamo anche comunque un prodotto particolare quindi possiamo farlo soltanto con i ragazzi del quinto anno maggiorenni insomma da un punto di vista legale non ci sono limiti però diciamo da un punto di vista nostra responsabilità lo facciamo soltanto ragazzi maggiorenni quindi forse rivedere quello che è il meccanismo dello stage che oggi è previsto per il quinto anno che sia soprattutto per gli studi professionali molto più qualificante di quanto lo è oggi e non soltanto un tick the box come spesso accade oggi mentre per quanto riguarda l'academy sì l'idea che noi abbiamo e su cui stiamo lavorando è noi ovviamente quest'academy quando lavoriamo con queste scuole diciamo dopo la fine delle superiori cercando di prendere gruppi di ragazzi che poi ovviamente daremo continuità un gruppo daremo continuità lavorativa e li formiamo con percorsi che cominciano dalla parte facciamo vedere tutto il nostro processo di produzione quindi se anche la sigaraia deve fare il sigaro a mano noi facciamo vedere il sigaro come viene fatto il tabacco quindi tutto il processo e poi ovviamente c'è una parte di formazione dedicata a quello che sarà il suo lavoro e stiamo investendo soprattutto sulla parte dei meccatronici e degli operatori a macchina lo facciamo con risorse nostre interne quindi oggi noi prendiamo i nostri responsabili LIF acquisto tabacco piuttosto che meccanici e li togliamo dalla loro attività primaria che è quella di condurre una macchina o manutenere una macchina per fare attività di formazione ecco questa attività di formazione forse potrebbe essere riconosciuta come un'attività diversa e non so le contribuzioni per le ore che vengono utilizzate nella formazione di giovani ragazzi con l'impegno poi ovviamente ad assumere quelli che sono i ragazzi che verranno fatti quindi l'idea che avevamo era questa qui grazie grazie e naturalmente siamo a disposizione eventuale integrazione di documenti eccetera non ci sono problemi che ci servono andando avanti nei lavori e naturalmente oggi ora dobbiamo passare all'audizione successiva grazie e buona giornata grazie buongiorno buongiorno naturalmente siamo sull'appare assegnato 478 artigianato di alta gamma audizione dell'associazione calzaturieri e pelletterie campagna abbiamo uno spostamento regionale molto forte noto oggi nella audizione però insomma dai è piacevole perché è un tema molto molto importante soprattutto nell'arrivare poi a una definizione di che cos'è questo artigianato di alta gamma abbiamo qui con noi Pasquale della Pia che è il presidente le lascio la parola per 5 minuti grazie è un'associazione ne ho costituita perché noi abbiamo la produzione sia nella calzatura che nella peretteria di eccellenza forse al top perché produciamo per i più grandi brand del lusso del mondo e per cui abbiamo pensato di fare questa aggregazione anche in virtù di un periodo in cui la nostra filiera sta un po' soffrendo per un po' la crisi che c'è nella moda specialmente nei brand del lusso dobbiamo dire che noi non abbiamo brand proprio ma anche perché basti pensare che in Campania ma anche a livello nazionale i produttori di brand del lusso rappresentano sia nella calzatura e sia nella pelletteria il 75-80% del fatturato globale cioè questo è un mondo che in realtà poi anche da più in vista di fatturato e di occupazione noi insomma su 250 aziende fra calzature e pelletterie abbiamo un indotto di circa 10.000 persone e con un fatturato insomma che supera i 500 milioni di euro per cui è una realtà molto perché eccellenza eccellenza perché noi dai brand del lusso quando parlo di brand del lusso ne parlo di Chanel di Hermès di Louis Vuitton di Gucci di Prada quindi a volte noi diciamo la Champion League perché il lusso è una parola però noi lavoriamo perché a Napoli e dico Campania perché abbiamo anche il distretto della calzatura si divide in due fra Arsano Frattamaggiore che è provincia di Napoli e Carinaro che è provincia di Caserta e ciò abbiamo denominato Campania la penetteria invece è più radicata nel distretto nostro Arsano Frattamaggiore perché dal disegno dagli uffici stili del lusso arriva un disegno un file e parte poi un prodotto finito cioè noi in realtà non siamo dei fasonisti lavoriamo su commercializzato quindi parliamo di aziende che hanno anche capacità finanziarie organizzative eccellenze perché basti pensare che l'ufficio stile di Whitton manda un file e si realizza la calzatura la borsa che vediamo poi nei negozi nel mondo a 4.000 a 5.000 a 6.000 a 7.000 a 10.000 le si immagina per fare un manufatto del genere la qualità che bisogna prestare e noi abbiamo delle modellerie con chiaramente una delle diciamo stiamo puntando molto la formazione perché abbiamo fra virgolette dei mestieri che stanno quasi ad andare in estinzione nella calzatura ci sono le cosiddette orlatrici io ne parlo sempre in regione perché le orlatrici purtroppo l'innovazione anche la più la 5.0 non è mai riuscita a sostituire un'orlatrice e né ad accompagnarla l'orlatrice è cosa quella che cuce e basti pensare che noi lavoriamo sui millimetri cioè se l'ufficio stile di Whitton dice che la cucitura deve stare a 0,5 millimetri da uno scollo di una scarpa vengono con i laser a un paio alla volta a misurarlo se il laser non è verde la scarpa viene scartata lei si immagini che significa un lavoro quasi e quindi noi stiamo cercando di con gli ITS di formare un po' di anche se è difficile perché i giovani non oggi purtroppo li fanno tutti gli stilisti tutti gli influencer però invece ci sono dei mestieri all'interno del nostro settore che sono anche pagati abbastanza bene basti pensare che i nostri modellisti vanno al di là del contratto di lavoro cioè quando sento parlare spesso del minimo di salario c'è a volte rido perché nel nostro settore guadagnano quasi il doppio quindi perché sono dei specializzati sono io non li chiamo mai operai mai perché nell'eccellenza anche un singolo quello che mette i tacchi adesso sembra però se io le porto una scheda tecnica di Prada e c'è l'agio un ingegnere per capire perché ogni tipo di tacco in base all'altezza in base al sottile o doppio signore subito mi possono capire voi uomini è un po' diverso e quindi ci vuole no guardi anche il rapporto fra fra dieci scarpe da donna se ne fa una da uomo l'uomo è sempre quella c'è stata la snicker che è un po' rivoluzionata però detto da un uomo il nostro mondo è monotono quello della donna è molto chiaramente produco donna io è chiaro no no dicevo nel senso che quindi il motivo dell'associazione è cercare di tutelare questa eccellenza se voi visitereste un'azienda che produce per il brand del lusso diciamo rimarreste a bocca aperta fra virgolette per le dimensioni per i fatturati per l'occupazione ma per il processo di qualità perché il nostro distretto e quello calzaturiero ce ne sono anche altri diciamo è fra i migliori d'Italia no perché basti pensare che a Napoli produce la Louis Vuitton Dior Saint Laurent Gucci Prada Hermès quasi tutti quasi tutti e noi abbiamo ancora la forza di che io dico sempre nella negatività può essere una possibilità la disoccupazione giovanile donna specialmente donna perché le orlatrici è un mestiere che principalmente fanno le donne forse hanno una delicatezza superiore per cui storicamente è solo la donna che cuce e chiaramente noi siamo degli artigiani perché lavoriamo ancora con le mani però a fianco abbiamo la 5.0 c'è una macchina di 350.000 euro che chiaramente monta la scarpa però è la risorsa umana l'elemento fondamentale quindi passiamo industrie ci passiamo da artigiano all'industria e questo è il mix che non facciamo un prodotto industriale cioè decido un prodotto di Hermes a volte capisco che la gente si spaventa quando vedi i prezzi ci dovrebbe un po' più di equilibrio ci dovrebbe stare fra basti pensare che a noi produttori il conto alla mano rimane l'1% di quello che lei che mi sembra un poco poco per chi crea prodotto ma questo non è l'argomento però Hermes solo su una lissatura la lissatura è colorare la parte grezza del pellame c'è un processo di industrializzazione che è spaventoso perché il lusso fra virgolette è maniacale e questa maniacalità ci vuole l'eccellenza non tutti possono produrre per questo l'associazione nostra nasce proprio su questo per tutelare questa eccellenza non viviamo di brand propri sembra per l'amore di dire può sembrare una negatività però se li dico io facevo brand proprio sono passati a brand del lusso perché oggi nel mondo globalizzato passiamo da Zara a Valentino il mondo di mezzo non c'è più cento medio non c'è più per cui l'Italia che è stata sempre il più grande produttore di qualità della calzatura la pelletteria si specializza principalmente a produrre i brand del lusso chi fa prodotto proprio nella calzatura italiana rappresenta il 20% del fatturato l'80% lo producono è fatto dai produttori dei brand del lusso la pelletteria ancora di più addirittura quasi il 90% quindi la nostra associazione proprio per cercare di tutelare queste eccellenze che non lavorano per il brand proprio ma lavorano per il brand del lusso grazie presidente anche perché ci ha illustrato in modo pratico con degli esempi concreti che cosa vuol dire produrre alta gamma lascerei la parola al relatore il senatore canta la messa grazie grazie presidente grazie presidente della via io ho spesso sentito il discorso della difficoltà che stanno vivendo queste aziende che producono pelletteria e scarpe per i brand del lusso volevo farle due domande e poi magari se ci fa avere una relazione anche scritta su eventuali soluzioni che o contributo che potrebbe dare lo Stato a chi produce questo livello di eccellenza io ho letto su alcuni giornali che il mercato del lusso in questo specifico settore è un mercato che ha avuto una forte riduzione in quest'anno in tutta Italia e ancora di più diciamo per i centri ai quali lei faceva riferimento della Campania se sì perché e cosa potremmo fare per cercare di dare una mano grazie grazie senatore Cantalamessa la parola al senatore Nave ok grazie presidente ringrazio il presidente della PIA per l'esposizione soprattutto di un mondo che ho avuto modo anche di conoscere io sono di quelle zone sono di Giuliano quindi quello che è il distretto del calzaturiero soprattutto sul terziario quello che mi interessava sapere se questo mondo è ancora contaminato da quella che era quella parte di produzione sommersa perché ce n'era tanto e quindi se questo è andato ad inficiare poi nel tempo sulla qualità e in che modo in realtà si può invoiare in un territorio dove l'immagine di chi produceva per conto terzi era come dire quel mondo sommerso per cui erano sottopagati stressati ecco come si fa a riqualificare l'immagine che cosa state facendo voi per poter riqualificare quel tipo di lavoro grazie grazie senatore nave a lei la parola le lascio un minuto grazie allora per quanto riguarda la questione del senatore Cantala messa cioè sulla riduzione del lavoro sul nostro distretto e anche sui distretti nazionali c'è da precisare un aspetto molto importante dalle riduzioni di budget di quantità non corrisponde le riduzioni dei fatturati dei grossi brand di lusso cioè se la filiera perde il 50% i fatturati non lo perdono e quindi c'è un'anomalia su questo qual è l'anomalia è che bisognerebbe ecco dove la politica può aiutarci confrontarsi con quando io parlo dei proprietari brand di lusso parliamo dei due gruppi francesi con LVHM e il gruppo Kering il gruppo Kering ancora di più perché senza comunicare alle aziende della filiera molto probabilmente loro hanno portato più produzione interna e ricevendo crisi ricevendo crisi invece di dividerla parimente loro si sono riempiti dentro e la crisi del 20% che è fisiologica in un momento in cui abbiamo la Cina che la parola RUC sia addirittura stata bandita che è il primo importatore del lusso nel mondo della Cina e abbiamo gli Stati Uniti prossimamente all'elezione normalmente al mercato americano quando sono le elezioni soffrire stavolta 50% di tutto il settore è qualcosa che ci preoccupa molto è vero che il 6 agosto c'è il tavolo della moda appunto per parlare che tutte le regioni insomma si è creato un tavolo di crisi dove noi abbiamo esposto tutte le problematiche e quindi la crisi ci può stare quello che è importante è che noi chiediamo alla politica è quella di interferire perché nella logica del rapporto tra le singole aziende e le bandi del lusso le immagini a chiedere un colloquio al signor Arnoux è letteralmente impossibile però se è la politica che chiede perché un territorio una filiera va anche non dico rispettata ma va anche salvaguardata perché tenete presente che i due brandi del lusso che detergono il 65% del lusso mondiale marcano Medinitri non Medin France quindi vuol dire che c'è una grande differenza perché come sono nazionalisti francesi marcare Medinitri è un valore aggiunto e quindi c'è il rispetto della filiera quando siamo serviti per le sue produzioni le racconto che il post-covid noi siamo stati costretti a lavorare anche tre settimane ad agosto perché non possiamo dire di no cioè noi non abbiamo contratti noi non abbiamo contratti noi nel 2022 in virtù della sovrapproduzione abbiamo fatto tanti investimenti in risorse umane e in tecnologia e adesso ci ritroviamo investimenti da pagare con cali di fatturato del 40-50% e diciamo non c'è un vero e proprio trasparenza fra la filiera e il brande del lusso la politica potrebbe aiutarci ad essere un po' più chiari nei progetti ed avere anche almeno un piano che non dico quinquennale ma un piano almeno triennale di lavoro insomma questo per quanto riguarda invece il quesito del senatore Nave che insomma conosce un po' di Napoli si è sempre parlato io dico Napoli perché è Napoli principalmente Carinario è un distretto che sono tutti napoletani che si sono spostati in questo territorio purtroppo di Napoli si è sempre parlato della della negatività ma avevamo una zona in particolare dove io chiamavo la Cina napoletana che era Grumo Nevano basti pensare che oggi non esistono più aziende a Grumo Nevano che fanno scarpe perché era la patria del sommesso questo segmento che vi dico è esattamente l'opposto noi subiamo audit subiamo degli audit che voi non potete nemmeno immaginare la severità di questi audit innanzitutto mi violano anche quelle che sono regola della privacy controllo dei contratti di lavoro dei roll dei permessi interrogazione ai dipendenti sicurezza sul lavoro non li dico tenga presente che nel calzo d'urificio io nella mia storia non abbiamo mai denunciato un'infortuna all'INAID anche perché l'eccellenza non è il lavoro fiat l'eccellenza è come i miei colleghi sarti se le vieni in un'azienda trova i nostri dipendenti che non lavorano a catena di mondaggio ma lavorano delle isole basta pensare il finissaggio che è la parte finale della calzatura le vedrà gente che con ipe tingono un po' di cioè quindi è un lavoro principalmente di qualità e non di quantità anche se produciamo 70-80 mila paia l'anno perché siamo artigiani ma è all'interno dell'industria quel sommerso non esiste più anzi le dirò di più e penso che la politica è le ultime situazioni che sono accadute ahimè sono accadute a Milano non sia mai non lo dico per partigiani che sarebbero accadute a Napoli noi lottiamo io sono anche all'unione industriale noi abbiamo il senatore Cantalamessa ne ha conoscenti noi abbiamo costituiti in tempi non addietro tanto è vero venimmo anche al senato cinque anni fa il museo del vero e del falso per la lotta alla contraffazione al sommerso l'abbiamo fatto noi imprenditori perché noi ci tuteliamo noi stessi quindi quel mondo non esiste non ci appartiene e addirittura siamo eccellenza anche nelle diciamo nelle audit perché gli audit che ci fanno da sopra principalmente che i vendi del lusso hanno investito principalmente in Toscana per la pelletteria e calzature e in Riviera del Brenta infatti uno dei punti che abbiamo messo nel tavolo di crisi non è tanto solo la parte assistenziale che noi imprenditori l'assistenzialismo è l'ultima cosa abbiamo chiesto agli ammortizzatori in deroga perché ognuno di noi ha soffruito già tutto il budget che teneva c'è un punto fondamentale il rilancio del territorio chiede ai brand di lusso investire nel nostro territorio perché ci sono tutti i presupposti perché non è che siamo delle start up noi già i nostri numeri sono dei numeri e abbiamo anche la forza di avere quella famosa disoccupazione giovanile che con la formazione può diventare ma dipendenti sempre di eccellenza per cui con stipendi che vanno al di là del contratto di lavoro questa è la bene presidente della Pia io la ringrazio molto se ci fa poi avere una relazione noi la leghiamo altrimenti riprendiamo quanto lei ha detto durante l'audizione che l'ha registrata la ringrazio saluto anche tutti i commissari ci vediamo la prossima settimana grazie grazie a lei grazie a lei